L'altra cosa che vi faccio vedere, siamo sempre negli algoritmi di Monte Carlo, è un rapporto fra il bit set, che abbiamo visto quando parlavamo insieme, e le tabelle hash, che abbiamo visto parlando di tabelle hash. Allora, un bit set rappresenta un insieme utilizzando un bit per oggetto. L'oggetto è presente oppure no. Però per fare una cosa del genere io devo sapere quali sono gli oggetti che possono essere messi dentro, metterli in ordine e decidere che, non so, l'oggetto 5 è presente oppure no, e quindi devo avere un elenco prefissato di oggetti. Dall'altra parte, le tabelle hash, invece, utilizzate per implementare un insieme, fanno benissimo, sono una struttura datidinamica, ci potete mettere dentro quante robe volete, però l'occupazione di memoria è potenzialmente molto alta, perché se l'oggetto che ci inserite è, che ne so, una stringa molto lunga, allora dovete memorizzarla, e tutte le volte che poi andate a inserire un oggetto dovete confrontarlo con le altre stringhe per vedere se è già stato inserito oppure no. Allora, Bloom, che è il nome di una persona, si è inventato quello che vengono chiamati Bloom Filters, che sono una struttura che cerca di combinare le due cose, quindi è una struttura datidinamica, è un insieme, ci potete mettere dentro degli oggetti, qualunque, una stringa, un numero, i promessi sposi, tutto il signore degli anelli, e lui li memorizza in 10 bit per oggetto. Lo svantaggio, perché ovviamente questo non viene gratis, è che non potete fare cancellazioni, la risposta è probabilistica, cioè l'oggetto è presente oppure no, non è un dato di fatto, ma una risposta probabilistica, e in realtà, per ovvi motivi, non sta veramente memorizzando il signore degli anelli in 10 bit, che con i suoi 1.400 pagine sarebbe un attimo difficile. Allora, la specifica, sono insiemi, sono fatti così. Hanno una insert, inserisce l'elemento X nel Bloom Filter, qualunque cosa, e ha una contains che dice che se restituisce false, l'elemento X è sicuramente non presente nell'insieme. Se restituisce true, l'elemento X può essere presente oppure no, e cioè ci sono dei falsi positivi. Ma in questo caso riusciamo anche a valutare qual è la probabilità di un falso positivo. Allora, c'è un trade-off fra l'occupazione di memoria, trade-off significa un bilanciamento, fra l'occupazione di memoria e probabilità di falso positivo. Per esempio, se volete una probabilità di, diciamo, 10 alla meno 1, significa un decimo, 1 su 10 è un falso positivo, 1 su 100 è un falso positivo, 1 su 1000, 1 su 10.000 è un falso positivo, ottenete questi valori, il numero di bit necessari per memorizzare. C'è una formula che è questa, di nuovo, possiamo andare a vedere com'è ricavata, ma noi in questo caso siamo utilizzatori, e vogliamo semplicemente dire, ah sai che c'è una probabilità su 10.000, a me va bene, e allora non sono 10 bit, sono 20, però rispetto al signore degli anelli, al solito è un risparmio. Dove vengono usati? Per esempio, adesso hanno cambiato un po' le cose, quindi non sono più sicuro di questo tipo di cose, però quando misterite una URL, oppure cliccate su un link su Chrome, in alcuni casi Chrome vi dice, guarda che questo sito è potenzialmente pericoloso, perché è noto contenere del malware. Una cosa che si vede sempre meno, ma c'è un certo periodo, capitava di finire un avviso di questo tipo. Cioè Chrome, non Google, ovviamente Google che mi sviluppa Chrome, ma Chrome sapeva che un certo sito che state visitando era potenzialmente pericoloso, e non lo faceva direttamente sempre, chiamandola casa madre, non è che tutte le volte che voi inserite un link, si va su Google, si verifica se è malware, e poi si dice no, attenzione, è malware. Allora, fino al 2012 utilizzava un Bloom Filter, come? Sostanzialmente, prendete tutte le URL che sono potenzialmente dannose e li piccate dentro un Bloom Filter. Ok? E la cosa buona è che ne potete mettere dentro quante volete. Quindi, per esempio, nel 2011, l'ultima volta che si è ottenuta informazione, perché poi non ho informazioni su... prendetele con un grano salis, nel senso che non sono sicuro di tutte le cifre, eccetera, però memorizzava 650.000 URL in circa 2 megabyte. Quindi, sostanzialmente, 650.000 URL, ovviamente, se memorizzate tutte intere, avrebbero avuto bisogno di molto più informazioni. Quindi circa 25 bit per URL. Ok? Con un tasso di probabilità di errore di 10 e la meno 5. Allora, cosa succede? L'ho inserito un URL e ho cliccato un link. Lui la passa attraverso il Bloom Filter. Contains questa URL. Se la risposta è negativa, siamo a posto. Non che siamo sicuramente a posto, ma Google non sa che quel sito... cioè, non è fra la lista del sito con malware di Google. Ok? Quello siamo sicuri. Vi dice di sì, quindi vi dà un positivo. Questo potrebbe essere un falso positivo. con probabilità 10 alla meno 5. Uno su 100.000 ti dice, guarda che è un sito con malware e in realtà non lo è. E voi poteste dire, ma come? Repubblica un sito con malware? Perché magari ha sparato proprio quello. Ok? Però la realtà è che in quel caso Google va a controllare, chiama la casa madre e si fa a dire se effettivamente è un link compreso nei 650.000 oppure no. Allora, qual è la logica? La logica è che se tutte le link cliccate dalle persone dovessero passare per la casa madre, non finirebbe... cioè, Google, a parte le implicazioni di privacy che lasciamo stare, però Google avrebbe tutto il traffico del mondo perché tutte le volte che cliccate su qualcosa deve passare su questo. Questo vi dice uno su 100.000 click che forse c'è qualcosa che non va e si può andare verso la casa madre. poi esattamente come viene fatto ripeto non sono sicuro però diciamo questi tipi di meccanismi si possono implementare infatti si trovano in un sacco di sistemi che se fate il corso di sistemi distribuiti uno che non è quello che faccio io lo fa Gian Pietro Picco però capita di vedere cioè sostanzialmente questo meccanismo la logica è con poca memoria perché alla fine 2 megabyte in un'installazione di chrome non è niente con poca memoria ok posso ridurre il traffico di rete di un fattore 100.000 che non è malaccio ok 2 megabyte riduco il traffico di 100.000 ah quei 2 megabyte vanno continuamente aggiornati per la volta che c'è una nuova url vanno aggiornati però non è un problema nel senso che si scaricano e si usano per un per un po' di tempo e per cui per esempio si dice ripeto io non ho l'accesso al codice quindi lo trovo fra wikipedia pagine web eccetera eccetera siamo attorno appunto si dice non date di fatto che per esempio facebook lo usa per iPad search cioè quando inserite scrivete Rob e viene fuori Roberto e magari il nome perché ha memorizzato per voi alcune stringhe di amici all'interno di questo tipo di informazione HBase evita di leggere il dischi in alcuni casi memorizza le informazioni Apache HBase memorizza informazioni su questi blue filter eccetera eccetera Yahoo che ormai è morta e così via ok lo stesso bitcoin utilizza il blue filter per offuscare le richieste perché sostanzialmente potete verificare se una certa richiesta è un insieme senza dover memorizzare la richiesta stessa all'interno del del blue filter come funzionano che a questo punto vi porrete questa domanda ricordatevi che sono bit set cioè uniscono l'idea di un bit set a una tabella hash io inizio con una vettura booleano tutto a zero perché ricordatevi che ho solo la insert e non ho la delete ok e ho una serie di funzioni hash k posso averne più di una e a un certo punto io voglio inserire la chiave 1 come faccio utilizzo ognuna delle mie funzioni hash e accendo il bit 1 nella posizione che mi dice la mia funzione hash nell'indice che mi viene detto della funzione hash ok e quindi ho inserito questi bit poi inserisco la chiave 2 e vedete per in questo caso sono tutti separati dall'insieme di bit della chiave 1 ma non si può andare avanti in cosina eterno senza collisioni a un certo punto inserisco la chiave 3 ok la chiave 3 ha una collisione qui poco male c'è una collisione non succede nulla quel bit che doveva essere acceso resta acceso e questi qua nuovi vengono accesi allora questa stringa qua è un bloom filter che contiene la chiave 1 la chiave 2 la chiave 3 secondo voi come potrei fare per verificare se la chiave 2 è presente nel bloom filter lo faccio anche voi da fuori esatto allora uno dei vostri colleghi ha detto vado a vedere nelle posizioni in cui dovrebbero esserci degli 1 se una certa chiave è stata salvata ok e se trovo degli 1 allora restituisco vero ma se non li trovo tutti 1 lo restituisco falso Fabrizio dice chiamo le funzioni esce controllo 6 bit nel moon filter sono 1 e Mattia dice però può essere seduto ad altre chiavi ed esattamente il motivo per cui questa struttura lati è probabilistica quindi hanno ragione sia Fabrizio che Mattia e l'idea è che io vado a cercare posizioni false e se ne trovo 1 ritorno false altrimenti ritorno vero quindi prendiamo K4 K4 c'è un 1 qua un 1 qua e uno 0 qua quindi non è stata inserita e sono sicuro che non sia stata inserita perché se fosse stata inserita qua ci sarebbe un 1 poi provo K5 che invece ho preso l'esempio di prima ha trovato tutti 1 ma K5 non l'abbiamo inserita prima abbiamo inserito K1 K2 K3 quindi K5 è un falso positivo ora non mi chiederò mai una cosa del genere mi serve solo saperlo che ci sono delle formule che ci dicono a seconda di quello che vogliamo ottenere cosa dobbiamo fare se ho n oggetti m bit K funzioni hash ottengo questa probabilità di K falso positivo quindi invertendo questa formula posso dire e facendo altri tipi di calcoli che dato gli n oggetti m bit il valore ottimale per K è pari a questo valore qua m su n logaritmo di 2 a questo punto avete n oggetti avete una probabilità di falsi positivi epsilon desiderata quella che volete utilizzare voi 1 su 100.000 1 su 10.000 credete voi il numero m di bit richiesti è pari a questo valore qua poi dividete m su n e ottenete il bit per chiave che andate a utilizzare quindi queste formule vi dicono vedete senza dimostrazione cosa si deve utilizzare per decidere quanti bit fare per cui quel 650.000 bit no scusate quel circa 2 megabyte che avevo detto per per Trom derivano ad un calcolo dicendo devo inserire 650.000 oggetti voglio una probabilità di 1 su 100.000 mi viene fuori 2 megabyte dal calcolo che vedete qui ok grazie a tutti